apertura di quella puntata, il volto di Antonella era dipinto da un'emozione profonda e palpabile. Con la voce rotta dall'ansia e il cuore pieno di ricordi, ha voluto dedicare un toccante tributo a un uomo che ha recentemente lasciato un vuoto incolmabile, Totò Schillaci. Ma non si è limitata a parole sussurrate. Ha scelto di accompagnare il suo messaggio con una melodia che risuona nel cuore di tutti noi, un brano che ha segnato un'epoca. Notti magiche, l'indimenticabile capolavoro di Gianna Nannini, è emersa dalle onde sonore come un faro di nostalgia. Quella canzone, che ha vibrato nell'anima di intere generazioni, è stata la colonna sonora dei mondiali d'Italia 90 a un momento che ha catturato l'immaginazione di un paese intero. Per Antonella, come per molti italiani, Notti magiche rappresentava non solo l'innocenza dell'infanzia, ma anche l'illusione della giovinezza, con tutti i sogni che essa porta con sé e che spesso svaniscono con il passare del tempo. La nostra tv ha creato un resoconto commovente di queste emozioni, mettendo in luce quanto Totò Schillaci fosse più di un semplice calciatore, era un simbolo di speranza e gioia. Con voce tremante, Antonella ha rivelato di aver letto innumerevoli tributi sui social. Un vero e proprio omaggio a questo straordinario sportivo. Ha esclamato, con passione, per noi Totò è stato un grande eroe, ci ha fatto sognare. E mentre l'importanza di quelle parole alleggiava nell'aria. Le lacrime hanno iniziato a scendere sul suo viso, segno di un dolore che non conosceva confini. Con un semplice ma carico grazie, ha chiuso quel capitolo emozionante. Allora, l'applauso scrosciò in studio. Un'onda di calore e rispetto per un grande uomo. Ma la serata non era finita. Ricomponendosi con un raggio di coraggio, Antonella si è spostata, pronta a chiudere un cerchio e aprirne un altro. È raggiunto il momento di svelare al suo affezionato pubblico il primo indizio del gioco telefonico. L'atteso momento di intrattenimento che, dopo tanta emozione, prometteva di riportare l'allegria. Il ciclo della vita continuava, ma il ricordo di Totò avrebbe sempre illuminato il cammino.